allora ragazzi buonasera buonasera bentrovati in questo video strano non so neanche come chiamarlo video annuncio video richiesta video favore sono qui per chiedervi un favore per degli amici sono una coppia di full timer full timer da ottobre se non erro ottobre o gennaio giù di lì quindi è una nuova coppia di full timer vivono in un camper un vintage del 1983 se non erro è un motorhome un iveco dell'83 lei si chiama jenny lui si chiama nicola e il figlio bellissimo con due occhioni azzurri si chiama dread sono due simpaticissimi ragazzi lei ha una carica un portente una potenza della natura lei è una carica incredibile e poi c'è la voce non so se è bolognese c'è quella parlata un po strana con la s un po è divertente molto poi è molto sorridente sempre molto attiva lui è meno comunicativo a livello social però è solamente una questione caratteriale sono molto amanti della natura sono dei conservatori nel senso che convinti e promotori del disfatto che tutte le cose belle della vita provengano da madre natura dalla terra dalla terra che il calpestiamo quindi da tenere da conto e salvaguardare girano in lungo e largo per il loro con il loro camper in questa avventura di full timer e quindi sono qui per chiedervi aiuto per dargli una mano una mano così che per noi non conta più di tanto è un clic un solo clic per iscriversi al loro canale per dargli una mano per crescere un pochettino lei è una blogger che scrive ha un suo blog personale sulla sull'alimentazione un'alimentazione abbastanza naturale ma non mi anticipo molto ma io vi metto un loro promo in cui si presentano non sono molto avvezzi al video quindi cercate di dargli una mano proprio così spassionatamente perché secondo me se lo meritano sono una bella coppia sono una bella famiglia e stanno cercando di vivere all'avventura stanno cercando di farcela stanno cercando di fare le cose per il meglio e a noi un clic non costa nulla ragazzi dai iscriviamoci iscriviamoci tutti quanti al loro canale il loro canale si so che molti di voi lo faranno spero che lo facciate tutti anche quelli che non sono iscritti al mio canale che stanno vedendo questo video diamogli una mano ne hanno un grande bisogno e perché no è gratis ragazzi non ci costa nulla datemi detta andate sul loro canale vedete un attimino non vi aspettate grandi video ve l'ho detto stanno iniziando però diamogli fiducia per me se la meritano tutti Jenny un grande bacio a Nicola un grosso abbraccio perché io baci agli uomini non ci riesco e Dredd a Dredd si un gran bacione al piccolino di casa ciao ciao a tutti ciao io sono Jenny io sono Nicola manca il nostro figlio che è su in camper chiaro Dredd vieni qua Dredd è la Margot il nostro cane ciao Margot dai un bacino noi abbiamo mollato tutto e siamo andati a vivere in camper da gennaio di quest'anno quello è il nostro cane io ho 32 anni lui ne ha 28 poi si è cavato la barba oggi quindi sembra ancora più giovane qui c'è un altro figlio Dredd adesso non è tanto contento ciao Dredd Dredd saluta ciao sembra uno figlio hola di hola hola bravo possiamo fare un'avventura in Croazia per restabilirci un attimo con la nostra amata natura perché ne avevamo bisogno di uscire un attimo dai centri urbani siamo qua esatto siamo qua accampati abusivamente perché ovviamente i camper non sono ben messi qua i camper non sono messi e niente abbiamo mollato tutto stavo dicendo a gennaio siamo andati a vivere in camper siamo i guidati da Aina abbiamo un blog www.guidatidaina.com per chi vuole seguirci e niente siamo amanti della vita e stiamo guardando quello che ci regala vivendo secondo la natura stiamo solo aspettando il bello perché il bello deve ancora venire ogni giorno si deve ancora venire e ricordatevi che le cose più belle ve lo regala questo la terra la terra ciao a tutti hola hola adio